Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, il vero inverno sta arrivando e forte in Italia, con aspettative di grandi quantità di neve e pioggia che cadranno in quasi tutte le regioni italiane da nord a sud durante la fine di questo mese, febbraio 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di sostenerci e incoraggiarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci. Continueremo a fornirti il meglio. A partire dal 23 febbraio ci sarà un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche in Italia e tornerà il maltempo nelle regioni settentrionali e centrali dell'Italia. E poi, dopo il 25 febbraio, questi temporali si intensificheranno e comincerà a nevicare al nord, al centro e anche al sud, con piogge molto forti che cadranno in gran quantità. In un periodo di tempo molto breve, che potrebbe provocare improvvise alluvioni con rischio di caduta di grossi chicchi di grandine. Questi forti temporali continueranno a colpire l'Italia almeno fino al 29 febbraio. E quindi ottimo clima invernale in Italia nel periodo compreso tra febbraio 23 e fino al 29 febbraio. 29 febbraio, quando le previsioni indicano che entrerà in Italia aria molto fredda, accompagnata da forti temporali, pioggia e nevicate, e anche grandine, con il rischio che si formino migliaia di alluvioni. Secondo le informazioni a nostra disposizione, tutte le regioni d'Italia dal nord al sud saranno interessate da questi forti temporali, ma in modo limitato. Gradualmente e con periodi di stabilità, stiamo dando seguito a tutti i nuovi aggiornamenti e maggiori dettagli. Cercheremo di fornirveli in seguito e quando il periodo si avvicinerà di più.